Musica Buonasera e bentrovati all'edizione della notte del TG6 in apertura la notizia della scomparsa dell'ex sindaco di Pescara Carlo Pace morte avvenuta la scorsa notte nell'ospedale di Pescara dopo che ieri era rimasto ferito in via Silvio Pellico investito da un'auto il cordoglio unanime è arrivato da tutto il mondo politico pescarese e non noi andiamo adesso ad ascoltare il ricordo commosso di Carlo Masci che è stato assessore per nove anni nelle due giunte guidate da Carlo Pace sentiamo il servizio di Paolo Renzetti Pescara piange l'ex sindaco Carlo Pace 81 anni compiuti ad ottobre che ha governato il capoluogo adriatico ininterrottamente dal 1994 al 2003 nel primo caso dopo essersi imposto su Mario Collevecchio e poi nel secondo caso dopo aver avuto la meglio su Gianni Melilla è stato anche coordinatore della commissione sismica mista della regione Marche-CNR e componente del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila per quanto riguarda la politica è stata forte in passato ma sempre leale la sua rivalità con Nino Sospiri all'epoca presidente del consiglio comunale nell'ultimo periodo e nell'ultima campagna elettorale ha appoggiato la candidatura a sindaco di Guerino Testa Carlo Masci un ricordo dell'ex sindaco Carlo Pace lei è stato assessore nelle due giunte dell'ex sindaco di Pescara un po' il suo braccio destro possiamo dire sono sconvolto la notizia è tragica perché oltre a essere stato assessore con lui per nove anni siamo stati legatissimi lo considero un padre politico un maestro di vita e un carissimo amico ieri ho saputo la notizia dell'incidente ho chiamato la famiglia mi avevano anche tranquillizzato nel senso che mi avevano detto che c'erano problemi l'incidente era stato grave ma lui non correva pericoli e quindi mi ero anche tranquillizzato stamattina invece ho avuto questa notizia incredibile non ci posso ancora credere veramente un dramma è stato un grandissimo sindaco un sindaco che ha amato la sua città un grande innovatore con lui è cresciuta una classe politica nuova è stato onesto ha proprio incarnato l'onestà e la serietà nella politica Pescara perde una persona di grandissimo livello di grande spessore è un uomo che sarà ricordato da tutti per la sua serietà e la sua correttezza un uomo politico molto considerato apprezzato anche dal centro-sinistra questo non accade sempre assolutamente sì perché è stata una persona onesta non è mai stato un politico nel vero senso del termine della parola è stata una persona che si è messa a disposizione della collettività e lo ha fatto in una maniera bellissima Pescara con lui è rinata, ha avuto un grande sviluppo, tante novità lui amava le novità, era una persona apertissima con lui ho ricordi incredibili momenti bellissimi di vita che rimarranno scolpiti nella mia mente una grande perdita per la città anche come esempio di vita Ed ora ci occupiamo di terremoto credo che il messaggio fondamentale è che la situazione vada accudita e curata continuamente stiamo mettendo la macchina della ricostruzione in campo e gradualmente stiamo uscendo dalla fase più acuta dell'emergenza lo faremo anche dal punto di vista della maggiore responsabilizzazione delle realtà locali così il premier Paolo Gentiloni al termine dell'incontro con i presidenti delle regioni colpite dal terremoto che ribadisce l'impegno continuo anche del governo che nella giornata odierna ha moltiplicato e rilanciato con risorse più che adeguate lo sforzo per la ricostruzione risorse che ha continuato Gentiloni nel decreto che verrà così messo a punto a metà aprile verranno inserite in un fondo per la ricostruzione che sarà molto rilevante oltre un miliardo all'anno per i prossimi tre anni per le aree colpite dal sisma ma ci sono anche critiche al decreto terremoto e arrivano dal centrodestra che denuncia troppe ombre almeno questo è quanto sostiene il parlamentare azzurro Fabrizio Di Stefano illustrando anche le proposte del centrodestra abruzzese Abbiamo visto due decreti diversi noi e il presidente D'Alfonso già quando uscì dal governo D'Alfonso si dichiarò estremamente soddisfatto perché tutto ciò che aveva chiesto era stato recepito poi il decreto è arrivato in commissione e quindi in aula e in commissione è stato inserito il cratere che non c'era anche se non c'è soddisfatto per come è stato fatto è stato inserito l'equiparazione sul nostro emendamento dei danni da maltempo nel cratere equiparati ai danni del terremoto in particolare al mondo Lefrane anche se è rimasto fuori scuso tutto quello che è fuori cratere è stato inserito il danno indiretto anche se con solo 22 milioni di euro per quattro regioni mi sembra davvero poco tutto il danno meteorologico non trova risposta se oggi i sindaci di Teramo, Ascoli, Macerata e Spoleto quindi di centrodestra e di centrosinistra dicono che i comuni sono stati lasciati abbandonati e che rischiano il dissesto evidentemente dentro questo decreto non c'è nulla per le amministrazioni locali se il cratere è stato ampliato ma sono rimasti fuori comuni come Penne come Catignano, come Penna Sant'Andrea come Basciano significa che qualcosa non è andato bene se si è avuto almeno la deroga al ridimensionamento dell'ospedale di Popoli anche se sottoposto al tavolo di monitoraggio quindi ancora con un grande punto interrogativo e viceversa per Penne non si è fatto nulla si vede che qualcosa non è andato bene francamente un decreto che non ci piace sono stati prorogati al 10 di aprile i termini per la presentazione delle domande di sostegno alle stalle colpite dal sisma per la perdita di reddito degli allevatori provocate dai decessi e dal crollo della produzione di latte del 30% per lo stress e per il freddo ma anche per la perdita di mercato causata dallo spopolamento quanto rende noto la Col di Retti nel sottolineare che le misure straordinarie sono fissate in 400 euro a Capo Bovino 60 euro a Capo Ovi Caprino e 20 euro per ciascun suino e in più 45 euro per le scrofe e 100 euro ad Equino ed ora invece ci occupiamo della politica terramana quarto rimpasto di giunta per il sindaco Maurizio Brucchi entra nel governo della città Alfonso Di Sabatino Martina che si occuperà della ricostruzione e che per mesi aveva criticato e chiesto le dimissioni del primo cittadino il servizio è di Tania Bonnici Castelli quarto rimpasto della giunta Brucchi ormai è cosa fatta o quasi all'istruzione entra Caterina Provvisiero in sostituzione dell'assessore dimissionario Francesca Lucantoni e poi la grande novità anche il riottoso Alfonso Di Sabatino Martina entrerà nell'esecutivo con delega alla ricostruzione dopo mesi di critiche feroci all'amministrazione Brucchi Di Sabatino cambia idea ma lo fa per una causa nobile quella di dare il proprio contributo a ricostruire una terramo a pezzi dopo il terremoto il terremoto ha fatto cambiare idea a Dodo Di Sabatino che entra così in giunta Eh sì, evidentemente detta così è singolare ma anche restituisce bene quello che è accaduto gli eventi sismici di questo periodo e le complessità che hanno comportato hanno ovviamente obbligato la nostra ritrosia a mutare idee ci hanno obbligato a assumere una scelta diversa che sia una scelta di responsabilità una scelta difficile che ha ovviamente come tutte le scelte difficili delle grandi complessità ma che sentiamo di assumere per un grande senso di responsabilità e per il fatto che riteniamo di giocare o meglio che quando la lotta si complichi è giusto che anche le persone che hanno un minimo ancora da dare scendano in campo Quindi una delega alla ricostruzione? Dovrebbe essere questa almeno a quello che leggo anche dalle vostre indiscrezioni sicuramente sarà immagino che sia una delega di questo tenore complessa, difficile da gestire con una serie di questioni che ovviamente non vi sfuggono attengono sia alla pianificazione strategica anche alle scelte importanti da compiere sulle scuole, sulla città sul patrimonio pubblico su operazioni di investimento privato sull'attrazione di capitali è ovviamente una delega che presuppone un impegno full time che presuppone un atteggiamento di grande disponibilità non è la delega del sottoscritto questa è la delega della città questo ci tengo a dirlo perché su questa cosa dobbiamo lavorare tutti e mi auguro che anche questa disponibilità venga raccolta anche dall'opposizione perché ripeto questa città deve rialzarsi lo deve fare nel miglior modo possibile nel minor tempo possibile lo deve fare con la schiena dritta con grande dignità Consumi in calo in Abruzzo al dirlo è un'indagine del Cresa che spiega però che una lieve ripresa è già in atto vediamo Oggi c'è questo convegno a Chieti a cura del Cresa per parlare delle famiglie abruzzesi di come vivono oggi le famiglie abruzzesi e soprattutto dei loro consumi qual è la situazione e cosa è emerso da questa indagine? I nostri dati si riferiscono alla precedente rilevazione di cinque anni fa in questi cinque anni i consumi di abruzzesi sono diminuiti di oltre il 10% una quota che è decisamente importante però rappresenta la crisi che stiamo vivendo una crisi che colpisce tutte le famiglie e che ha portato ad una diminuzione tra l'altro di consumi in maniera ovviamente anche articolata nel senso che il consumo alimentare rimane sostanzialmente stabile cosa estremamente interessante rimane stabile il consumo di istruzione quindi c'è una volontà di futuro perché si investe sull'istruzione sui giovani scende il consumo dell'elettronica e bene il consumo in termini più generali una discesa significativamente inferiore a quella nazionale quindi diciamo una regione in crisi e questo purtroppo ne fa la fotografia noi con i dati congiunturali abbiamo verificato che negli ultimi trimestri c'è stata una crescita della produzione di valore del prodotto interno regionale è una crescita è un'uscita della crisi che è ancora a macchia di leopardo nel senso che sono uscite la crisi le grandi imprese una parte il mondo delle piccole imprese in difficoltà sono le medie imprese il mondo dell'edilizia non riesce a riprendersi nonostante la ricostruzione aquilana ed ora la cronaca due anni dall'apertura dell'inchiesta sul fallimento di Soggesa e a quasi un anno dall'archiviazione per gli ex presidenti Cirsu Luciano D'Amico e Lunella Cerconi la procura firma l'avviso di conclusione delle indagini contestando l'accusa di bancarotta ad otto persone fraudolenta patrimoniale per i tre componenti dell'allora CDA di Cirsu e Soggesa Angelo Di Matteo Diego De Carolis e Andrea Ziruolo e i due consulenti Meri Pistillo e Lorenzo Gianmattei è preferenziale nei confronti dell'ex presidente dell'ECDA di Soggesa Gabriele Di Pietro dell'ex amministratore delegato Giovanni Marchetti e dell'allora presidente dell'ECDA e amministratore delegato della Deco Paolo Tracanna secondo l'accusa dopo l'acquisizione da parte di Cirsu anche delle quote di AIA in Soggesa a fine 2011 con la società diventata interamente pubblica e con i due CDA coincidenti i vertici del Cirsu avrebbero occultato la maggior parte dei 3 milioni dei crediti vantati da Soggesa nei confronti del consorzio andiamo avanti con il giornale la ASL di Teramo e la casa circondariale di Castronio hanno firmato un accordo per disciplinare le procedure di prevenzione dei suicidi in carcere vediamo dal 2012 ad oggi all'interno del carcere di Castronio a Teramo si sono verificati 5 casi di suicidio e diversi tentati suicidi questi ultimi fortunatamente sventati dalle guardie penitenziarie è importante dunque fare prevenzione e così il direttore della casa circondariale Stefano Liberatore e il direttore dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano hanno siglato un piano comune operativo per il pronto intervento e la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti come si fa in un carcere a prevenire il suicidio? questa è una domanda molto difficile come si fa? si fa attraverso strategie di comportamento partecipato attraverso una cooperazione tra tutti gli operatori penitenziari istituzionali paraistituzionali che insieme con tutte le loro forze trovano gli accorgimenti necessari per cercare di contenere diciamo forse la parola giusta è contenere questo disagio che purtroppo esiste esisterà sempre uno dei punti salienti dell'accordo firmato tra ASL di Teramo e casa circondariale di Castronio è quello della creazione di uno staff multidisciplinare in grado di prendersi cura dei soggetti che manifestano intenti autolesionistici è l'ASL infatti che gestisce il presidio sanitario del carcere Teramano attraverso una specifica unità operativa diretta da Massimo Forlini questo protocollo diciamo solo l'ultimo atto già nel passato c'è stata tanta attenzione ovviamente su questo argomento anche perché in carcere gli atti di autolesionismo che spesso sono non l'espressione di una malattia psichiatrica o di un disagio vero e proprio ma qualche volta anzi spesso direi sono legati alla ricerca dell'attenzione da parte diciamo così dell'ambiente ovviamente dove si trovano perché spesso il detenuto ovviamente si sente come devo dire abbandonato spesso lo è dalla famiglia eccetera quindi cerca una maggiore attenzione attraverso questi gesti adesso delle decisioni verranno prese coralmente attraverso questo staff multidisciplinare che si ordinà periodicamente in base all'osservazione che viene costantemente effettuata sui vari detenuti adesso torniamo a Pescara il consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli ha illustrato questa mattina i motivi che lo hanno spinto a scrivere una lettera al prefetto e al presidente della tua affinché vengano posti in atto i provvedimenti adeguati dopo l'ultima aggressione avvenuta sabato scorso su un autobus urbano consigliere Pignoli dopo gli ultimi episodi di violenza accaduti su alcuni mezzi pubblici della tua lei ha scritto una lettera al prefetto di Pescara chiedendo di prendere provvedimenti e soprattutto di tutelare maggiormente la sicurezza del personale che lavora sui pullman si ha detto bene lei non solo al prefetto ho scritto a questore ho scritto al comandante della polizia municipale ho scritto al sindaco ho scritto anche al presidente della commissione che dirige l'ordine di sicurezza che è il dottor Pier Nicola Teodoro affinché si individi un tavolo per eliminare questo problema ormai è un problema annoso persone anziane bambini genitori sono intimoriti di prendere il pullman questo non è possibile è una città bella è una città democratica è una città splendente come la città di Pescara dobbiamo risolvere assolutamente questo problema individuare attraverso un bando attraverso una concertazione privata poi vedranno loro quale modus operandi è meglio nei limiti del rispetto della legge associazioni di volontariato che abbiano protezione civile che possano mettere degli uomini ovviamente gratuitamente a costo zero per la tua per l'amministrazione comunale e quant'altro che facciano da deterrente per questi soggetti che nonostante non pagano il biglietto causano anche danni e disagi alle altre persone che legittimamente stanno prendendo il pullman mi riferisco ovviamente alle tratte quelle più importanti mi aspetto nei prossimi giorni una risposta in tal senso e mi aspetto anche una soluzione immediata per questo problema che è diventato un problema non importante ma per la gente che frequenta quel pullman che frequentano quelle linee determinante a San Giovanni Teatino il Movimento 5 Stelle con il consigliere comunale Mario Cutrupi questa mattina ha chiesto chiarezza sulla gestione dei campi da tennis della cittadella dello sport consigliere Cutrupi oggi si parla del circolo tennis qui della cittadella dello sport di San Giovanni Teatino voi nel comunicato avete scritto il circolo tennis di San Giovanni Teatino è malato perché? Qual è il problema? il circolo tennis è malato anche essendo una bellissima struttura fatta da 10 campi da tennis non riesce a mantenersi ed è malato della stessa malattia che fino ad agosto dell'anno scorso era malata la piscina comunale adesso la piscina comunale avendo tolto i privati e gestendola in prima persona come società pubblica la piscina comunale è rinsalita sta completamente bene vive da sola e non pesa sui soldi dei cittadini potremmo utilizzare lo stesso metodo per il circolo tennis dovremmo utilizzare lo stesso metodo è un obbligo verso il sindaco verso l'amministrazione che aumenta le tasse ai cittadini perché deve pagarne i servizi e non risolve problematiche così che andrebbero a incidere meno sulle tasse dei cittadini ma nel concreto qual è il problema dei campi da tennis qui della cittadella dello sport? l'associazione del tennis non pagava da un sacco di tempo neanche quelle piccole cifre che avrebbe dovuto pagare quindi come facevamo a fare la manutenzione? come facevano a fare la manutenzione? ed ecco che un circolo del genere decade invece un circolo del genere deve diventare un altro gioiello per tutti i cittadini di San Giovanni Tiatino e per farlo è semplice abbiamo già la soluzione non c'è da inventarsi niente la stessa società può gestire sia la piscina che il tennis semplice ed ora siamo al calcio in particolare iniziamo dalla Serie A e dal Pescara biglietti esauriti e grande attesa per la partita di domenica prossima all'Adriatico Cornacchia tra Milan e Pescara sarà il momento del ritorno d'avversario dell'ex bomber Gianluca Lapadula mentre Zema non è ancora sicuro di avere a disposizione Stendardo e Caprari il servizio di Andrea Costantini nonostante il Pescara abbia più di un piede e mezzo in Serie B e alta in città l'attesa per il match di domenica prossima contro il Milan la prova si è avuta ieri quando la dotazione di biglietti è stata polverizzata in 5 ore tra acquisti online nelle ricevitorie e la società costretta a rimandare al mittente alcune delle richieste provenienti da club del centro-sud Italia dunque oltre 20.000 persone saranno presenti tra le altre cose al ritorno in riva all'Adriatico di mister 30 gol Gianluca Lapadula l'uomo che nell'Abruzzo ha trovato la sua fortuna ma che a sua volta ha fatto le fortune di squadre abruzzesi prima da protagonista nella promozione in B del Teramo poi negata dalla giustizia sportiva quindi da assoluto re dei bomber della cadetteria con le 30 prodezze che hanno portato il Delfino in Serie A passando per i play-off Lapadula all'Abruzzo è profondamente legato tanto da tornare appena può a salutare amici ed ex compagni di squadra ma domenica d'avversario cercherà il gol per aiutare il Milan nella rincorsa all'Europa sempre che Montella gliene dia l'opportunità cosa non accaduta all'andata quando uno dei migliori pescara di Massimo Oddo fu superato solo dalla punizione beffa di Buonaventura ma l'attaccante torinese rimase in panchina per tutti i 90 minuti con Deolofeo e Ocampo sesterni il ballottaggio sarà con Bacca Montella dovrà valutare se il colombiano di ritorno dalla nazionale sarà subito pronto per partire dal primo minuto altrimenti spazio alle grande ex in casa pescara invece Zeman attende le prossime sedute di allenamento per capire se Guglielmo Stendardo e Gianluca Caprari potranno essere della partita sarebbero recuperi importanti anche perché in difesa Coda e K.O e Campagnaro non è ancora al 100% e non ha mai giocato nell'anno nuovo in attacco Caprari resta l'attaccante di migliore caratura e per lui di proprietà dell'Inter questo rappresenterebbe un assaggio di derby sul loro impiego qualcosa in più si capirà dopo domani quando la squadra disputerà l'amichevole contro l'Avezzano al Dei Marsi sarà anche l'opportunità di capire se Zeman vorrà lanciare dal primo minuto Koulibaly o se invece riproporrà il centrocampo classico della sua gestione con Bruno Metodista e Verre e Memuschai di ritorno dalle nazionali quali Mezeali in Lega Pro si anticipa il sabato alle 18.30 la partita del Teramo reduce dal pareggio esterno contro il Mantua la sfida del Bonolis contro la San Benedettese si preannuncia calda anche dal punto di vista ambientale con oltre 500 tifosi ospiti al seguito della squadra di Sanderra il servizio è di Jacopo Forcella San Benedettese e Ancona in quattro giorni diranno se il Teramo convalescente è davvero guarito tra sabato pomeriggio e mercoledì sera il diavolo avrà una doppia opportunità di rinsaldare una posizione disperata sì ma che dopo i quattro punti con Gubbio e Mantua sembra perlomeno essere più solida rispetto ad un paio di settimane fa perché il modulo sembra dare risposte confortanti le prestazioni dei singoli al di là dei limiti anche e allora quale migliore partita dal punto di vista soprattutto ambientale per cercare di ricucire il rapporto in una piazza delusa dai troppi bassi di una stagione da dimenticare la sfida con il rosso-blu di Sanderra in un Bonolis che si preannuncia caldo rappresenta uno stimolo per la classifica e un tentativo di riscatto dell'andata nella quale il Teramo come spesso dicapitato rimase negli spogliatoi cadendo sotto i colpi del promesso sposo del Pescara Leonardo Mancuso Ugo Lotti spera di riavere quanto prima Mirko Petrella per avere la possibilità di cambiare pedine in corso d'opera l'esterno d'attacco dopo i problemi alla schiena a Mantua ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa del polpaccio la salvezza diretta è lontana ad oggi solamente 4 lunghezze anche se in teoria per via degli scontri diretti proprio col Mantua sarebbero 5 ed ecco perché occhio agli incastri soprattutto alla gara del Tuglio Saleri dove il Lumezzane sfida l'Ancona e la partita del Mancini tra Fano e Mantua sfide però che si giocheranno conoscendo già il risultato di Teramo San Benedettese con in campo gli ex Lulli e Bernardo sul fronte rosso-blu e con almeno 500 tifosi al seguito dall'altra parte una squadra in ripresa e con la voglia di evitare un fastidioso quanto molto pericoloso pesce d'aprile ed ora invece siamo al rugby cocente sconfitta per l'Aquila che è stata superata domenica scorsa al fattori dai toscani del Medicei il risultato finale 29 a 33 il servizio di Niuscia Rioci nella sesta giornata di pool promozione l'Aquila Rugby Club viene sconfitta 29 a 33 dai toscani Medicei una sconfitta che brucia in quanto le due squadre sono sembrate decisamente equilibrate e in alcuni momenti i nero-verdi sono riusciti a sfoggiare un gioco brillante e aggressivo con le mette a cavallo del primo e del secondo tempo schiacciate dal numero 8 Carlo Cerasoli decretato proprio per la spettacolarità delle sue azioni man of the match gli ospiti e dal canto loro hanno potuto contare sulla precisione al piede dell'apertura gallese Dan Newton che è senza ombra di dubbio il giocatore di spicco della squadra toscana con 7 calci su 7 messi tra i pali i nero-verdi scesi in campo con la nuova maglia Vieni in Abruzzo la forza di una terra volta proprio a promuovere una regione duramente colpita dagli eventi catastrofici degli ultimi mesi si aggiudicano in ogni caso il bonus offensivo avendo schiacciato 4 mete una in più degli avversari e quello difensivo Carlo Cerasoli abbiamo visto un'ottima prestazione da parte tua due splendide mete a cavallo dei due tempi in cui vi siete trovati peraltro in superiorità numerica cosa è andato storto dal drop calciato da Newton quando voi eravate in vantaggio? Io credo che oggi la partita è stata condizionata dai piccoli errori che abbiamo fatto loro sono stati bravissimi ad approfittarne ecco qui il risultato che alla fine il gap sono i piccoli errori che abbiamo fatto quindi dobbiamo essere sicuramente più concentrati e andare avanti non ho niente da dire nel senso perché non siamo assolutamente inferiori a questa squadra e loro sono ripeto sono stati bravi ad approfittare alcuni errori nostri però siamo stati bravissimi tutti quanti abbiamo lottato e io credo sia una sconfitta immeritata però lo sport è anche questo però degli errori ci possono stare non c'è da recriminare né con l'arbitro spero che i nostri ragazzi prendano ancora più fiducia comunque dell'ottima prestazione è tutto anche per l'edizione della notte del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione con la rassegna stampa mattino 6 alle ore 7 poi il TG6 torna domani alle ore 14 grazie per essere stati con noi buonanotte grazie a tutti 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 grazie a tutti